In volo con voi è un salto, è voglia di essere... Andiamo! Matteo Piano, una partita molto concreta, molto concentrati fin dall'inizio e alla fine ha dato i suoi frutti. Sì, ha dato i suoi frutti. Ci aspettavamo una partita molto tosta come è stata, perché Padua è un grande avversario e ne avevamo bisogno di questi tre punti per cercare di allontanarceli in vista veramente del girono di ritorno. Che bello, guarda, anche perché ci siamo conquistati due giorni liberi, quindi sono molto contento perché inizio ad avere i miei anni, i miei acciacchi. Diciamo che c'era un obiettivo, un doppio obiettivo. Sì, assolutamente. Qua è sempre molto bello giocare, devo dire la verità. Sono contento di avermi dispiace e poi sono contento di aver vinto qua. Detto questo, Milano sta vivendo un momento molto positivo al di là dei risultati a livello di gioco, sembra anche proprio che come squadra ci sia grande affiattamento. Sì, abbiamo iniziato un percorso all'inizio anno lungo, faticoso come tutti penso e adesso sicuramente siamo un po' più liati ed è bello. Ci stiamo diventando ruspanti, capisci? Quindi è buono. Bocca al lupo. Grazie, ciao a tutti, buon anno.